Ciao a tutti, buonasera, benvenuti in questo nuovo video YouTube. Oggi è un video importantissimo perché stiamo vivendo un momento di grande cambiamento. Amazon ha ufficialmente cambiato, come tutti gli anni, l'algoritmo. Vi spiego meglio questa cosa che vi ho detto. Questa sera, per parlarvi di questo argomento, vi presento Igor. Igor è un mio studente, ma in realtà lui è già una persona esperta di Amazon e che lavora nel mondo di Amazon da anni. I nostri percorsi si sono incrociati professionalmente. Con lui condivido tantissime cose legate di questo mondo. Quindi questa sera avevo piacere di invitarlo per parlare di un argomento così tanto importante perché va ad impattare fortemente su quelle che sono le fasi e la gestione del nostro business. Vi introduco velocemente e poi passo la parola ad Igor che si presenta e ci fa una veloce presentazione appunto di quello che stiamo vivendo. Amazon ogni anno, nei primi mesi tra gennaio e febbraio, apporta delle modifiche al proprio algoritmo. Questo ovviamente per migliorare il proprio servizio e migliorare anche il servizio di chi lavora all'interno di Amazon. Questo di solito ha sempre portato ad un miglioramento della qualità del servizio sia di chi ovviamente fruisce come cliente, ma anche di chi ci lavora. Quindi io ho molta fiducia di questa azienda. Quest'anno il cambiamento in particolare, secondo il mio punto di vista, è un cambiamento molto più importante degli altri perché si va a collocare in un periodo storico già di per sé molto importante a livello di novità di cambiamenti. Faccio riferimento ovviamente anche all'utilizzo delle intelligenze artificiali che Amazon stesso sta ampiamente utilizzando e che ha anche portato questa notizia non bellissima al licenziamento in massa di tantissime persone. Non solo Amazon l'ha fatto, anche altre grandi aziende, colossi, diciamo, a livello internazionale. Ora, questa sera, grazie all'aiuto anche di Igor, siamo qui per spiegarti al meglio cosa cambia e come andrà ad impattare nel self-publishing di libri low content e medium content questo cambio di algoritmo. Quindi passo velocemente la parola ad Igor che si presenta e ci dà un'infarinatura, un'introduzione veloce di questo. Esatto, grazie per l'introduzione. Lorenzo, sì, appunto, mi occupo di Amazon da parecchi anni e nel corso degli anni ho visto parecchi cambiamenti per quanto riguarda l'algoritmo. Come dicevi tu, sicuramente migliorativo lato utente, ma anche in questo caso lato nostro, perché appunto spiegheremo quello che sono effettivamente queste novità e come andranno ad impattare sul business. Direi niente di preoccupante. Vediamo appunto quello che sono queste nuove modifiche con Lorenzo. Sì, allora diciamo che, come dicevamo, tutto questo io credo di poter già affermare che ci porta verso un miglioramento della qualità dei libri che noi andiamo a produrre e questo mi piace fondamentalmente. Io ho sempre invitato tutti a lavorare producendo libri di qualità. Che cosa succede? Iniziamo spiegando l'algoritmo di Amazon come ha funzionato fino ad oggi. Ipotizziamo che oggi sia la data di cambio dell'algoritmo. È veramente questione di ultimi giorni, quindi siamo veramente pionieri anche in questo, come i pionieri del low content. L'algoritmo di Amazon fino ad oggi era basato totalmente sulla cosiddetta SEO, Search Engine Optimization. Cioè, noi inserivamo delle parole chiavi, delle cosiddette famosissime, famigerate keyword, all'interno dei nostri metadata, e per metadata intendo titolo, sottotitolo, e sette keyword di back-end, e grazie a queste keyword noi andavamo a rancare su Amazon in base appunto ai parametri di ricerca. Quindi se noi facevamo un libro da colorare per bambini dai 4 agli 8 anni sugli animali, inserivamo tutte queste parole chiavi inerenti a questo appunto libro, e grazie a queste noi speravamo che gli utenti all'interno di Amazon, digitando nella barra di ricerca e matchando il più possibile le keyword che noi andavamo ad inserire, loro avrebbero trovato il nostro libro e lo avrebbero anche comprato. Quindi che cosa succedeva? Succedeva che molti self-publisher farcivano letteralmente i cosiddetti metadata, quindi titolo e sottotitolo, di keyword, allo scopo di rancare meglio e questo era uno spam di keyword che aveva portato anche a che cosa, Igor? Esatto, c'è una serie di problemi anche per questione di lettura del titolo stesso, non è più così fruibile, anche perché il titolo, soprattutto guardando dal telefono, da uno smartphone, il titolo è accorciato, non viene letto tutto, quindi questo spam di keyword penalizza l'algoritmo, comunque ci penalizza nella visualizzazione, perché non ci dà la possibilità effettivamente di far vedere al cliente, potenziale cliente, il corretto titolo completo di tutte le informazioni. Mi riferisco anche ai titoli uguali però, no? Sì, anche e soprattutto a titoli tutti uguali alla fine, perché... Perché le keyword quelle sono, se voglio fare un libro da colorare per bambini da 4-8 anni a tema animali, e quelle sono le keyword. Esatto. Andava a castrare la creatività. E quindi questo è come ha funzionato fino ad oggi l'algoritmo di Amazon. Adesso vi spiego come funziona. A grandi linee, da questo punto di vista, l'algoritmo di TikTok e YouTube. E tu mi dirai, ma che c'entra? Perché, voglio dire, stiamo parlando di Amazon e del self-publishing. Ti spiego dove stiamo andando a livello di direzione, dove Amazon ha scelto di andare. Che cosa succede? TikTok e YouTube. Quando io carico un video su queste piattaforme, la piattaforma può capire cosa noi diciamo nel video, e quindi andare a capire di che cosa quel video sta trattando. Che cosa succede? A questo punto, che ovviamente la SEO, la Search Engine Optimization, diventa molto meno importante. Quindi le keyword che noi mettiamo magari nel titolo del libro, negli hashtag, nella descrizione del video, diventa molto meno importante. È molto più importante che cosa? la qualità della performance del nostro video. Quante persone cliccano e guardano il video stesso per più tempo? Questo perché? Perché ovviamente fa attraverso una serie di parametri che hanno a che fare appunto con le abitudini di chi guarda quel video, lo storico dei video guardati dall'utente, quanto tempo guarda il nostro video, che link clicca mediamente quell'utente. Insomma, tutta una serie di parametri riescono a appunto dare alla piattaforma delle informazioni riguardo al nostro video e a indicizzarlo bene. Quindi quel video sarà riproposto a degli utenti a target molto di più rispetto a quello che succedeva in passato, appunto indicizzando il nostro video con le cosiddette parole chiave. Che cosa succede? Quindi dove sta andando l'algoritmo di Amazon? Dove è andato? Come sta cambiando oggi l'algoritmo di Amazon? Ora, Amazon sa di che cosa tratta il nostro libro. Incredibile! Senza alcun, diciamo, in base ad alcuni parametri, senza più l'utilizzo delle keyword. Non so se vi siete accorti, ragazzi, e spero che molti delle persone che mi seguono già da tempo abbiano recepito bene il consiglio che io do sempre di passare tanto tempo all'interno di Amazon, perché effettivamente è quello che vi fa accorgere di questi segnali. Se avete fatto questo, vi sarete sicuramente accorti che ci sono dei libri che non hanno più la keyword nel titolo e nel sottotitolo. Sono sparite le keyword e comunque quei libri sono visibili e non solo performano molto, molto bene. Igor, secondo te, dove stiamo andando? Esatto, stiamo andando verso una direzione dove l'algoritmo deciderà, selezionerà in qualche maniera, metterà dentro un catalogo specifico i nostri libri secondo probabilmente descrizione, titolo o contenuto all'interno del libro. Gli algoritmi comunque sono anche in grado di leggere contenuti, anche se sono delle immagini. Ora, Amazon sa di che cosa il nostro libro tratta. Ovviamente questo avrà un impatto molto più forte per quello che riguarda, diciamo, il cosiddetto full content, perché lì essendoci un grande contenuto per Amazon sarà più facile individuare all'interno dei nostri interni del nostro libro di che cosa stiamo parlando, ma questo vale assolutamente anche per low e medium content. Quindi che cosa succede? Amazon farà rancare il nostro libro in base a dei termini di ricerca che magari l'utente ha digitato e sui quali ha acquistato. Che significa? Dopo vi faccio un esempio pratico per capire bene questo. È importante. Cioè, mentre prima c'era keyword, quindi io speravo che l'utente mecciasse quanto più possibile scrivendo all'interno della barra di ricerca di Amazon la mia keyword, e quindi il mio libro presumibilmente doveva comparire. Tutto questo, ovviamente, facendo la cosiddetta guerra che esiste all'interno della concorrenza. Oggi non è più così. Cioè, oggi io posso permettermi anche di svincolare totalmente il mio titolo dalle keyword, e quindi chiamare il mio libro in un modo molto più creativo. E questo è sicuramente un aspetto positivo. Perché? Perché Amazon fa, capendo che cosa c'è all'interno del nostro libro, propone il nostro libro anche a chi digita termini di ricerca diversi, ma che comunque mecciano come argomento, come topic, il nostro libro. E questo è un primo parametro. Un altro parametro, in base al quale il nostro libro andrà a rancare all'interno di Amazon, è il tempo passato all'interno di una pagina prodotto. Se un utente passa tanto tempo all'interno della nostra pagina prodotto, significa che è interessato a quei tipi di prodotto. E quindi, se il mio libro è all'interno di quel topic, di quell'interesse di quell'utente, ha più probabilità di essere proposto da Amazon al nostro ipotetico cliente. Poi, storico di acquisti, altro parametro sul quale Amazon va a proporre prodotti simili. Recensioni, attenzione perché anche di questo parleremo in maniera più approfondita dopo anche con l'aiuto di Igor. Quindi, che cosa c'è scritto all'interno delle nostre recensioni? Anche lì, anche in base a quello, Amazon va ad indicizzare il nostro libro e lo stesso la descrizione. Quindi, le keyword ora non sono più lo strumento per rancare e quindi non serve più inserirle nel titolo e nel sottotitolo, quantomeno come prima. Questo capite che cambio è, che portata enorme ha, che impatto enorme ha all'interno del nostro modo di fare business. Questo anche a livello di formazione, ovviamente, è importantissimo. Quindi voglio proprio vedere tutti i vari formatori oggi come si andranno ad adattare a livello di risposte che dovranno dare ai propri studenti. Noi, nel frattempo, pionieri del low content, saremo pionieri anche anche questo e, ovviamente, saremo qui per soddisfare tutti i dubbi di tutti quanti. Facciamo un esempio pratico. E poi passo la parola a Igor, che ce lo spiega molto meglio, perché lui conosce Amazon benissimo. Ipotizziamo di fare un libro di frasi divertenti da colorare e di intitolarlo Scaccia la noia. Voi capite che questo titolo non ci dà indicazioni di che tipo di libro è il nostro. Però all'interno del nostro libro ci sono frasi divertenti da colorare. Se le persone cercano libri da colorare divertenti e Amazon sa che il nostro libro potrebbe essere a target con questa ricerca, il nostro libro sarà visibile, magari qualcuno lo clicca, magari qualcuno lo acquista e quindi noi rancheremo anche su libri da colorare divertenti. Lo stesso accadrà anche se un altro utente dovesse cercare libri di frasi da colorare. Semplicemente il nostro libro, che potrebbe essere tranquillamente a target anche senza titolo, anche senza, scusate, keyword all'interno dei metadata, Amazon lo renderà visibile e a fronte di un acquisto noi andremo in automatico a rancare anche su questo termine di ricerca o meglio topic, argomento, perché adesso ha senso parlare di topic e argomenti e non più di keyword o termini di ricerca. Igor, come giudichi questo cambio? Sicuramente epocale. Era una cosa su cui io ci speravo da un po' di tempo proprio perché, insomma, richiede parecchio tempo andare a ricercare le keyword specifiche da poter inserire all'interno della dashboard di Amazon. Richiede parecchio tempo, oltretutto c'è una scelta, bisogna fare una selezione, non si possono mettere infinite keyword. Appunto sappiamo che sono sette all'interno delle keyword nascoste, diciamo, quelle che possiamo inserire nel titolo ma non sono tantissime, più il sottotitolo. Quindi abbiamo veramente poche, poche possibilità. In questo modo, certamente, abbiamo magari la possibilità, mi invento, di inserire gli argomenti proprio all'interno dell'introduzione del libro. Potrebbe essere così un'idea, inserire il cosa fa, cosa serve quel libro, cosa va a risolvere, piuttosto di cosa si occupa e sicuramente l'algoritmo sarà in grado già di capire di cosa si tratta senza dover appunto scrivere delle keyword in chiaro dentro la dashboard. Assolutamente. È un cambio veramente grande, grande, grande. Quindi vediamo insieme che cosa sta avvenendo, che cosa sta succedendo in questo passaggio da algoritmo a base SEO a algoritmo a base qualità o performance, a me piace chiamarlo. Allora, i consigli che vi diamo, i consigli che oggi vi diamo in questo video YouTube sono questi. Invece di focalizzarti in maniera totale come prima, perché effettivamente era giusto farlo prima, perché era quello il metodo per rancare, sulla keyword, quindi prima veramente, che cosa succede? Rifletteteci. Prima abbiamo sempre tutti insegnato ed imparato la cosiddetta ricerca keyword, cioè il trovare l'angolo all'interno di una nicchia sempre più specifico nel quale andarci ad infilare perché lì in quell'angolo c'era una domanda di mercato e non c'era competizione. Oggi non serve più fare questo. Perché? Perché mentre prima facendo questo, noi anche con un prodotto di scarsa qualità comunque avremmo potenzialmente venduto perché il nostro libro era tra i primi risultati per il semplice fatto che era visibile in quell'angolo lì, oggi non serve più fare così. Quindi dobbiamo assicurarci innanzitutto di fare un prodotto di qualità e di farlo in una nicchia profittevole. Questo assolutamente prima di pensare agli argomenti, le keyword, le nicchie, diciamo, non le nicchie, le nicchie sì, invece di pensare ai cosiddetti termini di ricerca o keyword profittevoli. Questo è un cambio epocale, ovviamente, secondo me, positivo e non negativo. Poi, una cosa importante è che possiamo differenziarci e possiamo creare dei titoli più accattivanti senza il vincolo delle keyword insieme alla cover che anche questa diventa molto più libera e molto più creativa rispetto a prima perché prima, ovviamente, se all'interno del nostro titolo e sottotitolo c'era almeno tre keyword anche queste andavano messe nella cover perché il titolo principale nella cover ci andava. Oggi possiamo divertirci anche a svincolare la cover da tutto questo e ovviamente un altro aspetto, un altro dato che riassume finalmente una importanza che secondo me nell'ultimo periodo aveva un pochino perso è la descrizione. Nella descrizione adesso possiamo effettivamente attraverso delle tecniche molto mirate aiutare Amazon ad indicizzare ancora meglio il nostro libro. Quindi capite che il business cambia verso, va verso una qualità del servizio che Amazon vuole dare al cliente e che impone a chi lavora in questo modello di business. Mentre prima era facile speculare tra virgolette trovavamo la keyword profittevole facevamo un paio di libri anche non perfetti ma comunque eravamo nei primi tre risultati e chi cercava quello comunque probabilmente ci avrebbe acquistato il libro. Oggi non è più così. Che ne pensi Igor? Sì, esatto c'è questo nuovo modo di catalogare i prodotti cambierà certamente quello che è l'approccio verso il cliente quindi il cliente innanzitutto diciamo che Amazon è proprio è una barra di ricerca non è un motore di ricerca quindi va a ricercare o risolvere cercare di risolvere un problema che ha digitando delle parole che a volte sono così ignare cioè non è consapevole pienamente il cliente comincia a digitare delle keyword a volte a casa a volte con consenso e pian piano il motore di ricerca perfeziona questa ricerca proponendo delle parole successive probabilmente anche questo verrà sostituito cambiato in qualche maniera per cercare di agevolare e velocizzare il processo di acquisizione del prodotto quindi si va sempre verso un accorciamento del tempo dal momento in cui uno comincia a digitare il keyword all'acquisto quindi bisogna dire Amazon vuole che l'esperienza di acquisto del cliente sia più rapida e veloce possibile anche quello ci deve perdere poco tempo anche perché sappiamo che meno tempo ci mette il cliente più tempo magari ha per acquistare altri prodotti non ci sono solo libri su Amazon ma un po' di tutto assolutamente vediamo adesso qual è l'impatto delle intelligenze artificiali in automatico su quello che costituisce parte integrante del nostro modello di business ovviamente le recensioni molti di voi si sono accorti specialmente diciamo i self publisher più esperti quelli che lo fanno da più tempo che le recensioni ultimamente hanno avuto un po' di trambusto ogni anno ci sono state le cosiddette flag season i tagli delle recensioni le ghigliottine che faceva Amazon alle recensioni finte quelle comprate eccetera eccetera oggi le recensioni quanto mai servono ad Amazon per la indicizzazione del prodotto e quindi ancora meno senso comprare recensioni perché con l'aiuto delle intelligenze artificiali Amazon toglie in automatico quelle non vere ora questo è un problema di tutti quei formatori che hanno sempre insegnato diciamo a comprare le recensioni ricorrendo ai cosiddetti virtual assistant fortunatamente io ho sempre sconsigliato l'acquisto di recensioni ho sempre insegnato metodi per acquisire recensioni in maniera del tutto organica perché tanto Amazon non è stupido Amazon è assolutamente la migliore tra le due tre migliori aziende del mondo e assolutamente vuole la qualità del servizio specialmente nelle recensioni quindi ragazzi oggi più che mai le recensioni sono importanti ma sono importanti quelle vere secondo aspetto dove le intelligenze artificiali stanno impattando è nel controllo delle categorie è molto importante per lo stesso motivo di prima andare a ricercare categorie attinenti alla nicchia del nostro libro sempre per un discorso di indicizzazione cioè ora tutti questi parametri sono fondamentali per essere ricercati in topic coerenti con quelli del nostro libro mentre prima eravamo noi ad essere molto più padroni diciamo nel poter guidare l'indicizzazione del nostro libro oggi lo siamo di meno ma siamo molto più portati al fare prodotti di qualità e fare diciamo muoverci in maniera pulita e coerente con quello che è effettivamente il topic del nostro libro a me piace molto questo cambiamento Igor che ne pensi? sì sì no assolutamente sicuramente a lungo termine premia sempre il fatto di essere onesti con Amazon perché prima o poi se ne accorge assolutamente comunque sia mettere recensioni false pilotate eccetera quando magari il prodotto non è così di qualità addirittura sotto capita spesso di leggere delle recensioni di clienti che dicono ah io mi sono fidato delle recensioni che ho letto ma poi ho constatato che probabilmente non sono vere perché in realtà il libro non corrisponde a bla 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 eccetera quindi è penalizzante in questo senso invece se uno lascia così per via naturale che le recensioni avvengono quelle sono reali e a lungo termine porteranno sicuramente al successo della pubblicazione del libro assolutamente vediamo ora per finire quali sono i risvolti i risvolti nel self-publishing nel nostro modello di business allora riassumendo la ricerca keyword sicuramente avrà un impatto importante dopo questo cambio di algoritmo cioè la cosiddetta ricerca keyword come tutti hanno sempre insegnato fino adesso e come noi la conosciamo come io stesso ho sempre fatto sicuramente cambierà sicuramente cambierà e noi dobbiamo cambiare le nostre abitudini qui cascano vari asini a livello anche di formazione quindi bisogna essere bravi e veloci nel capire i cambiamenti e quindi io sicuramente cercherò di mettervi in condizione se siete specialmente i miei studenti di fare una ricerca keyword quanto più giusta possibile anche a fronte dei cambiamenti che avvengono giorno dopo giorno come diciamo qual è la regola di base che rimarrà per sempre che la ricerca keyword manuale rimarrà comunque la migliore la ricerca del topic ormai non si può più parlare di keyword effettivamente stanno un po' scomparendo le keyword per come le conoscevamo ma la ricerca del topic della nicchia profittevole va fatta sicuramente a mano quanto mai più di prima e questo ovviamente non entro più nel dettaglio di questo perché se vuoi imparare tutti gli step diciamo che compongono questo meraviglioso un relo di business poi ti faccio vedere effettivamente dove andare a ricercare le ads le sponsorizzate di amazon andranno anche queste un pochino ripensate a livello strategico quindi già stiamo facendo dei test importanti partiamo dal presupposto che con le ads ragazzi si ragiona solo a test chi vi vuole raccontare che con le ads esiste una strategia infallibile vi dice una bugia io stesso faccio vedere vari tipi di strategie che per me hanno funzionato ma vi dico sempre fate i vostri test perché comunque funziona totalmente a test e qui anche Igor sicuramente potrà portare un'esperienza importante riguardo le amazon ads perché anche lui lavorando su amazon da tanto tempo ovviamente le conosce molto bene ultimo aspetto lavorare meglio sul marketing perché dobbiamo capire che oggi il marketing dei nostri libri in quanto noi siamo autori e spesso anche editori dei nostri libri noi ragazzi dobbiamo lavorare come effettivamente persone che producono e vendono libri per fare questo facendolo ovviamente online serve di lavorare molto bene a livello di marketing come anche sfruttando molto il traffico dall'esterno all'interno di amazon quindi prendere traffico da fuori e portarlo dentro amazon che ne pensi sì esatto questo sicuramente paga molto bene nel senso che il fatto di portare del traffico dall'esterno verso amazon è visto bene dalla piattaforma chiaramente perché ovviamente arrivano nuovi clienti che non solo acquisteranno un libro ma probabilmente altri prodotti quindi proprio nella strategia di amazon cercare di ottenere del traffico dall'esterno già in generale amazon ultimamente richiama traffico dall'esterno nel senso che ci sono delle sponsorizzate in cui appunto amazon va a pubblicizzare su google piuttosto che su piattaforme social quindi è possibile che si vedano dei prodotti anche direttamente sui social quindi va benissimo è un'ottima strategia quella di poter portare traffico verso amazon assolutamente io vorrei chiudere questo video invitando tutti quanti ovviamente a capire che uno dei migliori modi per rimanere aggiornati e per imparare bene questo modello di business è senza dubbio pionieri del low content masterclass che è il nostro percorso formativo dico nostro perché Igor è all'interno della masterclass quindi è anche testimone di come gli argomenti vengono approcciati sicuramente adesso io avrò il mio bel da fare perché questo cambio che va ad impattare un po' tanti aspetti di questo modello di business che ho anche insegnato fino a oggi fino a ieri andrà un pochino quantomeno contestualizzato e rivisto io sicuramente sono pronto io sicuramente so che dal giorno zero i miei studenti avranno le informazioni più attuali possibili spero che sia così anche per tutti gli altri ho i miei dubbi però insomma Igor io vorrei lasciare i nostri amici con veramente 30 secondi di testimonianza e vi ringrazio a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video sì sicuramente un ottimo modo per poter essere aggiornati poter così progredire in questo business che ha bisogno comunque di formazioni continue c'è bisogno di formazione continua quindi quando diciamo si entra nei pionieri del low content il vantaggio è quello proprio di ricevere informazioni testimonianze test anche da altre persone questo è un confronto continuo che fa sì che il percorso non sia affrontato da solo cioè un conto è dire scalo l'everest da solo e un conto è dire lo scalo in gruppo con altre persone chi più chi meno esperte ognuno più esperto in un ramo specifico questo confronto comunque da sempre un supporto anche morale per quello che comunque ha delle difficoltà chiaramente come tutti i business seri non è fuffa quindi si parla seriamente di un percorso profittevole nel tempo bisogna costruirsi ovviamente un percorso che si approfittevole nel tempo ci va un po' di esperienza ma sicuramente all'interno del gruppo c'è un aiuto che non si trova fuori ecco io motivo per cui faccio parte comunque di questo meraviglioso gruppo per cui se volete più informazioni ovviamente vi lascio tutti i riferimenti qua sotto in descrizione se mi conoscete da TikTok o da Instagram trovate sempre nel link nelle mie bio tutte quante le informazioni ringrazio tanto Igor per avermi accompagnato in questo video saluto tutti quanti ci vediamo al prossimo video e vi aspetto all'interno di Pionieri dello Content Masterclass ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti